Buonasera a tutti, sono molto contento per l'assist e anche per il gol di Marco. È stata una grande partita che abbiamo fatto con un'ottima squadra come l'Atalanta. Sono molto fiero di questi compagni, mi danno una grande mano, sia a me che a tanti giovani. Sì, è vero, il mister fa sentire tutti allo stesso modo, sia i più vecchi che i più giovani. Per Giuseppe ci ha fatto varie presenze e ci auguro il meglio perché è un grande amico. Spero che anche Masella e Igor riescano ad esordire. Per me la famiglia è speciale, questo esordio lo dedico a lui, soprattutto a lui, sia l'esordio che l'assist. Sì, è stato un peccato perdere, comunque abbiamo perso con una grande squadra e adesso andiamo a Crotone domenica e cerchiamo di portare i tre punti a casa.